ciao a tutti eccomi pronta per realizzare lo sfondo della prossima tip che mi servirà per realizzare uno dei miei video corsi utilizzerò per creare questo sfondo il mega polish numero 3 della linea glitter di morgana nails è un prodotto estremamente pigmentato e molto brillante per questo motivo ho voluto presentarvelo questo è uno dei miei preferiti adesso sono pronta per andare a disegnare sopra questa tip la rosa one stroke in gel del livello avanzato del mio corso online se sei iscritta al mio corso ci vediamo direttamente all'interno del gruppo dedicato a questo corso altrimenti ci vedremo nel prossimo video di presentazione dei prodotti morgana nails che sono i prodotti che utilizzo io ti saluto e spero di ritrovarti nel mio prossimo video ciao ciao